Sono stati trasportati tutti in ospedale i quattro passeggeri della Fiat Punto Abarth coinvolte in un grande incidente stamattina sulla Stadale 113 a Capodorlando. I quattro, tra cui una ragazzina, tutti residenti tra Rocca di Caprione e Longi, viaggiavano a bordo della vettura e pare stessero raggiungendo il casello autostradale di Brolo, da dove poi raggiungere Messina per andare a trovare un amico ricoverato in ospedale a seguito di un altro incidente avvenuto domenica a Frazzanò. Giunti all'altezza di una semicurva, poco prima di Contrada Drago, hanno visto sbugare un furgoncino da una stradina a Poderale che collega la 113 con la consulata antica. L'impatto non è stato violentissimo, ma evidentemente il tentativo di evitare il furgone ha portato l'auto contro il muretto laterale, quindi la Punto si è capovolta. Sono stati gli abitanti di quella zona e diversi automobilisti a prestare primi soccorsi e ad estrarre i feriti dalla vettura. Sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze che hanno caricato a bordo i feriti. Due sono stati trasportati a patti, gli altri due invece all'ospedale di Sant'Agata Militello. Secondo le prime testimonianze avrebbero riportato ferite sparse e qualche trauma, ma non sono in pericolo di vita. Il leso invece è il conducente del furgoncino. La statale è stata chiusa al traffico e di mezzi in transito dirottati sulla consulare antica da via Beneficio e via Torrente Mangano, in modo da consentire la rimozione della vettura da parte dei vigili del fuoco di Sant'Agata Militello. I rilievi invece sono stati eseguiti dalla polizia del commissariato di Capodorlando.